ciao a tutti in questo video vi volevo far vedere una sola creazione quindi immagino non sarà un video molto lungo spero di riuscire a caricarlo già oggi lo sto registrando il sabato prima della festa della mamma e il motivo per cui spero di farlo è perché è proprio il regalo che ho destinato alla mia mamma non vi tengo sulle spine il regalo è questo eccolo qui è un cestino di primule che spero si capisca che siano primule altrimenti ho fatto un sacco di lavoro per nulla e l'ho inserito in questo cestino che avevo a casa ho messo la spugna per fioristi e poi ho fatto queste queste sei piantine di primule e niente ho utilizzato rocaille da 9.0 di solito io uso quelle per fare i fiori poi in base ai colori vi devo dire la verità io ho notato che varia un po la qualità io ho trovato molto regolari questi bianchi questi fucsia e i gialli questo è lo stesso giallo che io uso per fare la mimosa questo blu invece è un po una qualità un po più bassa diciamo che è un po più irregolare però va bene fare i fiori ovviamente cambia poco magari bisogna mettere una perlina in più per fare lo stesso giro e l'ho fatta blu perché forse se qualcuno di voi ha presente c'è comunque la primula che è un viola molto scuro che tende quasi al blu quindi ho pensato che potesse essere un colore che poteva andare bene soprattutto perché li avevo già a casa e non sapevo come utilizzarle perché ovviamente sendo un po irregolari era un po difficile usarlo per altro tipo di lavoro come potete vedere il centro non è preciso si vede un po il filo però io ho notato che la grande di soprattutto in questo scuro ovviamente però io ho notato che la grande difficoltà proprio nel fare i fiori non è tanto il farli ma l'assemblarli qui ovviamente si uniscono al centro i petali del singolo fiore e ovviamente le perline occupano spazio quindi non si possono accostare così bene da non far vedere il filo purtroppo succede qui magari non si vede ma ci sono delle perline verdi perché se avete presente le le primule all'interno tendono sempre ad avere un pochino di verde qui si vede anche qui c'è magari si vede un po meno perché c'è poca luce comunque ci sono anche lì e niente ogni piantina che ho fatto ho fatto una ricerca delle foto su internet ho visto che avevano la media di 5 fiori e quindi ho fatto ogni piantina con 5 fiori e ogni fiore ha 5 petali quindi sono 25 bianchi 25 gialli che vabbè sono diventati 50 perché ne ho fatti due 50 di blu e 25 di fucsia è un lavorone nel senso che ci vuole veramente tanto tempo nel momento in cui fate un po' di pratica quindi dopo la prima decina di petali andate via tranquilli però tenete conto che una singola piantina io ho usato praticamente sono 25 petalini ho fatto 10 foglioline piccole grandi esattamente come i petali e poi ne ho fatte altrettante un po' più grandi con un colore di verde un po' diverso tenete conto che per ogni piantina servono più o meno tre ore stando un po' stretti e non distraendosi quindi in realtà ne serve anche un po' un po' di più come tempo poi bisogna ovviamente montarli e montarlo poi il tutto sul cestino quindi ci sono una ventina di ore ma anche un pochino di più di lavoro in questa in questo cestino quindi spero che sia gradito perché l'unica volta che ho fatto regalato altri fiori a mia mamma alcuni li ho fatti li ho messi direttamente nel vaso non ha detto niente ma l'unica volta che glielo ho regalati mi aveva chiesto ma che fiore è e quindi avendomi un po' smontato così poi non glieli ho più fatti molto volentieri detto questo spero che riconosca che siano primule e di conseguenza che comunque riesca ad apprezzarli e cos'altro dirvi non vi farò un tutorial un po' perché non ho voglia di farlo nel senso che dovrei mettermi a fare dei petali e messi a caso per perché comunque non ho intenzione di farne un'altra quindi dovrei farli per poi disfarli e onestamente non ho pensato di filmare la cosa man mano che li facevo perché comunque li facevo di sera davanti alla televisione perché è l'unico momento in cui io mi metto a fare fiori perché è una cosa che non richiede moltissimo impegno mentale o di concentrazione a seguire schemi eccetera e poi perché comunque io ho seguito alcuni blog dei video che ho trovato su internet su youtube e poi ho due tre libricini che spiegano come fare i fiori quindi dovrei eventualmente chiedere il permesso per fare se ho fatto un po' un mix di tecniche che ho visto perché c'è un blog con un sito adesso non so se sia russo che spiega moltissimi fiori come come farli diciamo però io anche usando google chrome nel momento in cui traduce il russo io non capisco niente e i disegni sono onestamente per me poco chiari o meglio per come sono abituata a leggerli io non li capisco granché comunque vi metto il link nel box informazioni se per caso vi interessa almeno quello ce lo avete come punto di riferimento poi nella mia varia ricerca di fiori ho notato che comunque i video russi sono quelli in cui vengono fatti meglio e forse sono anche quelli più numerosi nel senso ci sono molte ragazze russe che effettivamente fanno dei fiori l'altro giorno ne ho visto uno perché mi sono iscritta a uno di questi canali e vi assicuro che è da ridere solo ad ascoltare un russo che parla perché non è che si capisca granché ma insomma dalle immagini comunque si vede abbastanza e si capisce abbastanza e stava facendo un garofano però ho visto anche la rosa perché la mia idea era in realtà di fare delle rose però le tecniche che fanno per la rosa ne ho visti ho visto tre ragazzi diversi che facevano la rosa e non mi piaceva nel senso che usavano tutte la stessa tecnica e comunque non mi piaceva perché utilizzano la tecnica del palo per cui il petalo veniva praticamente a punta io con tutta la mia buona volontà però il petalo della rosa non è a punta è molto più stondato quindi non mi sono un po' bloccata sul fatto della rosa e quindi ho ovviato per le primule proprio perché era da un po' che volevo farle in realtà volevo farla già l'anno scorso e quindi finalmente sono riuscita comunque poi nel montaggio mi sono ritrovata a fare qualche fogliolina in più per coprire magari la spugna se per caso era visibile in alcuni punti quindi poi ho infilate un po' un po' sparsi insomma per riempire un po' di più perché come vedete a me piace che comunque qui c'è la spugna fino al bordo però non si vede perché ovviamente ho cercato di coprire il più possibile ok basta mi sembra di non dovervi dire nient'altro spero che non dico vi sia di ispirazione perché ormai l'epoca delle primule ormai è finita però niente questa era l'ultima creazione che volevo farvi vedere spero che sarà gradita casomai chi mi segue su facebook saprà che fine farà questo cestino della serie speriamo che sia apprezzato ah una cosa vi volevo dire perché mi è capitato qualche ragazza me l'ha chiesto come pulisco io i fiori di perline allora quando è tutta perlina come questa che quindi non c'è verde sintetico tipo foglie finte insomma che magari trovate nei vivai e basta un panno anche magari umido togliete la polvere in superficie nel caso in cui invece ci sia il verde sintetico potete utilizzare l'aria del phon ovviamente alla minima velocità perché non vi voli via tutto però dovreste riuscire già a risolvere così e nient'altro quindi fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video ciao